Coperte materazzi ma anche indumenti e scarpe ed addirittura un passeggino, tutti segni evidenti della presenza di occupanti abusivi all'interno dell'ex mercato ortofrutticolo di Arezzo. Ha infatti preso avvio in questi giorni l'intervento di bonifica della struttura ormai da anni abbandonata, ma prima di dare avvio ai lavori si è svolta una blizza della polizia locale di Arezzo alla ricerca di giacigli abusivi. Negli ultimi anni erano stati numerosi gli interventi di questo tipo da parte dei vigili che avevano portato prima all'individuazione e poi all'allontanamento degli abusivi. Nel corso dell'ultimo blitz non è stato trovato nessuno all'interno dei locali, solamente oggetti di uso quotidiano utilizzati da chi aveva trasformato quegli ambienti in un dormitorio. Ed è proprio in questo lato della struttura che alcuni senza tetto avrebbero trovato un agiaciglio di fortuna sia al piano inferiore che a quello superiore. L'intervento di bonifica ha preso avvio dalla demolizione delle parti pericolanti, vetri, solai ed intonaci che stanno crollando. I lavori proseguiranno poi per una decina di giorni. Si tratta di un primo intervento in vista della realizzazione dell'orto creativo. È una struttura multifunzionale per la quale una destinazione è in corso di definizione, ma che sicuramente funzionerà soprattutto come bonifica di un sito altamente inquinato, ma anche altamente fatiscente, per cui tutta la zona dovrebbe avere un certo miglioramento. Grazie a tutti.